Musica Bella ragazzi, carichi come nomai da FizzGamer Oggi ragazzi siamo su GTA 5 Oggi ragazzi andremo a creare un personaggio molto speciale Di chi sto parlando? Di Enrico Pasquale Pratico Ci andremo a fare un bel deathmatch, una gara, non lo so Creamolo prima, vediamo Allora, questo non è assolutamente Enrico Pasquale Pratico Però un po' ci somiglia Andiamo Uomo Già ci somiglia Enrico Andiamo, allora, origine Partiamo subito Eh, aspettate, ora prendo una foto di Enrico Pasquale Pratico Ok, va bene, questo Quelli ragazzi che mi piacciono a me mi piacciono biondi Uomo e donna devi ne scupare, no maschio e maschio Rappelli neri, matri, bellissimi sex Non uomini, non gay e non trans Bellissimi sex Io sono cazzo, sapo, avigna Lavoro, voi che facete, ciao, ciao Sono un ragazzo carino Io sono cazzo, sapo, avigna Lavoro, voi che facete, ciao, ciao Sono un ragazzo carino Trovate a me Sopro, sapo Con voi o da me? E sopra, fa sta buca E' un sito rotto in culo E' un sito satanico Ciao Giuseppe Ciao Che fai? Ti voglio bene Chi ha detto che il mio cielo è piccolo? Ti fai Io sono cazzo, sapo, avigna Lavoro, voi che facete, ciao, ciao Sono un ragazzo carino Io sono cazzo, sapo, avigna Lavoro, voi che facete, ciao, ciao Sono un ragazzo carino Quelli ragazzi che mi piacciono a me, mi piacciono biondi Omo e donna devono scopare No, maschio e maschio Grappelli neri, macri, bellissimi sex Non uomini, non gay e non trans Bellissimi sex Io sono cazzo, sapo, avigna Allora, come ti chiami? Enrico Pasquale Pratico Da dove vieni? Abbiamo molto segno anni E quanti anni hai? Ho 22 anni Ah, quanti anni hai? Ho 22 anni E quali sono i tuoi hobby? Hai la Playstation 3 Ho il telefono Samsung Galaxy Grand Neo Ma che stai dicendo? Non sto capendo niente, vabbè Giochiamo, vediamo come te la cavi su GTA Eccolo Enrico Pasquale Pratico E andiamo, andiamo a sconfiggere tutti Andiamo, andiamo Andiamo a rubarci subito una macchina Andiamo Oh, che cazzo No Perché uccidono ora Enrico? E perché uccidono Enrico? E dai, non ho ancora entro in questa sessione Già mi uccidono No, Enrico ora è venuto su GTA Vorrebbe fare amicizia con voi Non, non potrebbe essere vostro nemico Eh, che cazzo Salve, buonasera Sono Enrico Pasquale Pratico Vorrei comprare un paio di armi Potrei esaminarle? Vediamo subito Allora, prima cosa voglio comprarmi L'accetta Subito L'accetta Mamma mia Un bel bazooko si può comprare? Dov'è, dov'è? No, non posso comprare il bazooko Vabbè, non fa niente Vabbè, lo apriamo a cazzo Enrico, adesso farà una cosa davvero grande Enrico, subiti But my hope will never die Come Enrico Ci stia stupito Enrico, Pasquale Pratico Andiamo, andiamo Oh mio Dio Dai, raga, guardate com'è forte Solo lui Solo lui, po' Solo lui, po' Solo lui, po' Incredibile Andiamo a fare un deathmatch Dai, con lui Andiamo a fare un deathmatch Vai, ecco la squadra di Enrico Pasquale Pratico Scommettiamo pure 1700 euro Vai, raga, punto tutto su di voi Andiamo, vai Enrico Spacca i culi Spacca i culi Enrico, vai Ok, vai subito Enrico, Enrico No, no No, Enrico Mi dispiace tanto Oh, ecco La prima uccisione di Enrico La prima uccisione di Enrico Andiamo Cioè, abbiamo solo un punto in squadra E chi l'ha fatto? Enrico Logico No, no Enrico L'avete ucciso Ecco, sei morto Ahaha Ecco Sei morto anche tu Ciao Doppia Per Enrico Sto già quando solo lui, squadra Aiuto il team Ciao È tripla per Enrico Oddio Quadrupla per Enrico E andiamo Stiamo portando noi Avanti la squadra Andiamo E dai 5 uccisioni Ma è incredibile È incredibile Cioè, Enrico Sta facendo i culi Oddio Oddio Mamma mia Sei uccisioni Sei uccisioni Sei uccisioni Sei uccisioni per Enrico Tutti di fila Do Ci devono mettere paura di Enrico Sette uccisioni di fila per Enrico Ormai Sono tutte facili Mamma mia 8 uccisioni Ma che cazzo sto combinando Ma che sto combinando Non è come serie Eh Vabbè Dopo mille uccisioni di fila Dai Vabbè Enrico No Che cazzo ha fatto No raga È crashato Vabbè crashato Andiamo a fare una gara Andiamo a fare una gara malata Dai Dai Enrico Enrico ci stupisce sempre Raga Enrico è il migliore Dai raga Facciamo una cosa Facciamo una cosa Facciamo un po' Facciamo un po' di massacri Qua nell'online E poi E ragazzi Se volete altri episodi Con Enrico Pasquale Pratico Fatemelo sapere Qui sotto nei commenti E mettete un sacco di mi piace Perché voglio capire Se posso continuare questa serie Diciamo serie Perché poi Faccio Delle cazzate con questo Enrico Pasquale Pratico È la prossima puntata A fare una gara malata Quindi mettete un sacco di mi piace Perché Enrico ne ha bisogno Fatelo per Enrico Dai Per Enrico Pasquale Pratico Dai E che cazzo fai Ma Enrico Comanda qua Comanda in questo GTA Solo in questo però Guardate ragazzi Di nascosto Dandam 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 Non sai cosa ti aspetta Dandam Dandam Aiuto 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 Cosa hai fatto Ma è un terrorista È un terrorista Guardalo come è fiero No E raga Mi vogliono Morte Ragazzi Dopo questa morte Perché non mi vogliono Più vedere in questo GTA Sono troppo terrorista Anzi lui lo è Enrico Pasquale Allora Enrico Manda Un bel saluto Allora Enrico Ma Cosa ha fatto No basta Ci vediamo nel prossimo episodio Forse Se loro ti vogliono Dovono mettere Quanti mi piace Deve 150 mi piace Ragazzi Dovete mettere Fatemi capire Se volete Altri episodi Con questo pazzoide Quindi ragazzi Lasciate 150 mi piace Lasciate un commento Iscrivetevi al canale Noi Ci rivecchiamo Ad un prossimo video Bella ragazzi Mannaccio 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 Ciao